Stiamo lavorando una struttura di falegnameria nel carcere di Sulmona, ma soprattutto a dialogare con gli imprenditori per portare lavoro proprio dietro le sbarre. E' uno dei impegni assunti dal sottosegretario della giustizia Federica Chiavaroli subirò dopo la conferma dell'incarico. Si punta così a creare occupazione anche in carcere perché, fa notare Chiavaroli, gli imprenditori cominciano a crederci e credo che se è un carcerato non offriamo queste opportunità veniamo meno al nostro dovere. Sul carcere di massima sicurezza sulmonese è già previsto un investimento di circa 15 milioni di euro per l'ampliamento della struttura. Entro un anno e mezzo, al massimo due, quindi per il 2018, sorgerà in effetti il nuovo padiglione che avrà una capacità ospitativa fino a 700 detenuti. Al momento sono 460 i reclusi della struttura carceraria di Via Lamaccio. Permane il problema della carenza di organico, più volte attenzionato dalle sigle sindacali, in particolare dalla Wilpa Polizia Penitenziaria.